Nel corso di questo show ho avuto l'opportunità di rendere buoni amici con alcune persone che ho lavorato e di poter viaggiare qui è una esperienza fantastica. Penso che come attore, di ottenere l'accento a un show, come la franchise CSI, è una grande parte di confidenza e è qualcosa che non lo prendo molto e mi sento benvenuto di stare qui in Roma. Riunisco quello che hanno detto i miei colleghi e i miei amici di fondo.